finalmente ci siamo finite le presentazioni dei protagonisti casco stivali protezioni e mascherine indossati finalmente si inizia rapido scalcio ai kickstart e via nessun problema l'accensione anche se queste moto è bene ricordarlo non hanno l'avviamento elettrico solo yamaha e osquarna tentennano un filo ma è solo questione di istanti finalmente si gira la pista ridorno è tutta per noi per iniziare mezz'ora secca per prendere confidenza con le moto ma anche per capire il circuito 30 minuti a manetta libera per poi fermarci briefing e raccomandazioni del caso vero è che motocross è sinonimo di divertimento ma oggi siamo qui per valutare precisione e professionalità diventano quindi una condizione necessaria il tracciato è quello giusto supercross tanta tecnica quindi per valutare le reali capacità delle due e mezzo anche i tester non sono da meno ognuno con le sue peculiarità tutti con idee ben precise perché loro di cross sono esperti davvero compreso il velocista lai che ha iniziato a correre proprio in sella a ruote tassellate rabbocco di benzina e manubri di nuovo in mano si torna a girare questa volta per valutare sul serio e infatti non dobbiamo attendere tanto le prime impressioni arrivano subito a caldo ancora in sella la moto e già con la voglia di ripartire per assaggiare le qualità di una o confrontare su un'altra i punti forti appena riscontrati sulla moto che si stava guidando ktm un'impressione a caldo esagerata e fantastica di motore di tutto c'è un po le sospensioni un po verso il morbido bisognerebbe assettare in una maniera un po più dura per questa pista un po livello all'inizio delle piste indoor ha decisamente un motore esagerato molto pronto progressivo ma molto forte un po rigida secondo me la trattura delle sospensioni davanti non è precisissima la tm è una moto da capire molto strana di telaio di sospensioni però in compenso un motore fantastico ma fortissimo non finisce mai personalmente quella che mi piace di più perché mi aiuta un po di più col motore un po più stile vecchi due tempi che ho assoluto salto vai ciclistica è un po un po duretta davanti un po strano dietro bella molto bella il motore tra i migliori la sospensione davanti un filino stenta a partire però si può sistemare secondo me una delle migliori dell'otto ma oggi non è solo questione di impressioni al volo per stilare la nostra classifica abbiamo studiato apposite schede di valutazione una per ogni modello in prova tante le categorie di cui si compongono dall'impostazione di guida alla ciclistica di telaio sospensioni e freni a fare il giro di boa verso sezioni più pragmatiche dove gli oggetti della valutazione diventano motore e trasmissione a loro volta divisi in sotto sezioni dedicate all'erogazione e alla coppia del primo a frizione e rapportatura della seconda per ogni sezione voto compreso tra 1 e 5 con rispettiva traduzione letterale da molto scarso a ottimo come voci opzionabili Yamaha un'impressione a caldo un'impressione a caldo è una bellissima moto ha un bel motore maneggevole un po' il davanti non sta nel canale però bella la cosa più positiva di questa moto è l'erogazione del motore è tutta più completa più per piloti più con meno cattiveria la cosa più negativa è un po' l'impostazione di sella un po' troppo alti tutto senza sottovalutare l'aspetto maneggevolezza e guidabilità e con l'aggiunta di una voce fuori dal coro dedicata a chi si avvicina per la prima volta al mondo del cross qual è la moto più facile per imparare? Usquarna un'impressione a caldo diciamo che dell'otto è molto facile va bene per un utente medio che non avrà che potere se mette lì non ci fa niente la moto va ma torniamo in pista torniamo a girare tanti tantissimi giri per valutare le nostre sei moto da cross al totale abbiamo superato la soglia dei mille con tanta benzina passata nei carburatori pieno in partenza e più di 70 litri di benzina come riserva al pit stop Kawasaki un'impressione a caldo moto compatissima un po' la guida arretrata motore comunque formidabile pronto sotto e allunga anche tantissimo non hanno tantissimo un motore parlo per una persona abbastanza pesante come me io sono quasi 90 kg quindi quasi tutte le due e mezzo fece fatica a farle andare di là però sono questa è una bella moto secondo me non è male un motore molto esplosivo dell'accelerazione molto sotto però ha poco allungo e secondo me c'è una salla troppo morbida allora ha un motore veramente forte non sembra neanche 250 poi ha una buona ciclistica secondo me vecca un pelino di sospensioni però per il resto della moto è abbastanza buona come abbiamo detto e torniamo a ripeterlo ognuno cerca nella moto quello che più si adatta al suo stile di guida c'è chi preferisce una moto chi invece è incuriosito dall'altra per tutti tanta voglia di guidare e capire sul serio le sei protagoniste Honda un'impressione a caldo moto fantastica la più facile maneggevole telaio bellissimo molto pronta di motore e cattivo anche rispetto anche all'anno scorso semplicità il motore è pronto subito mentre particolari negativi secondo me non ne ho trovati anche se non sono un super esperto di cross però è quella che secondo me mi ha messo più a mio agio sono riuscito a girare anche meglio un'impressione a caldo dell'onda beh quest'anno veramente hanno fatto una moto bellissima maneggevole con un bel po' di motore rispetto agli altri anni dicendo me è una moto quasi perfetta tanti tantissimi giri quindi in mezzo giusto una pausa per mangiare qualcosa primo pomeriggio e si riparte ancora dorno ancora cross targato due e mezzo il tempo non è certo tiranno e oggi vola via come sui salti di dorno ogni pilota ha finito di compilare le schede di valutazione e provato tutte le moto giù da una sali sull'altra nel mentre un confronto veloce con chi la guidava magari per capire impressioni e consigli per valutare meglio la moto noi sempre a bordo pista ad aspettarli per prendere al volo le loro prime impressioni suzuki un'impressione a caldo prima cosa che noti il motore è cattivissimo che va fortissimo sotto le prime marce però comunque purtroppo mura mura quasi appena dopo la metà impostazione di guida comunque bella la moto è molto agile e leggera la cosa che mi è piaciuto di più è proprio il motore che c'è sempre la guidabilità e la curva quella che mi è piaciuto di meno è proprio l'assetto molto caricato in avanti che è molto abbassato davanti devo dire che mi piace tanto come motore e sospensioni mi trovo meglio con l'onda forse perché ce l'ho però devo dire che è meglio di quel che mi aspettavo l'aspetto più positivo è quello più negativo di questa moto ma devo dire che ti mette subito a tuo agio questa rispetto a molti altri negativa è la poca sensibilità col posteriore ok va bene per iniziare per uno che non ha mai guidato cioè che vorrebbe avvicinarsi a questo mondo penso di sì e tanto che non giro con la moto da cross secondo me è una di quelle che ti mette più a tuo agio appena sale finalmente ci siamo gira e rigira la giornata è finita e i nostri tester tornano soddisfatti ai box a noi rimane un ultimo compito quello di raccogliere le schede e fare i conti del caso ancora un po' di pazienza e sapremo quali saranno le moto da podio abbiamo conosciuto moto e piloti adesso andiamo a stilare una classifica generale in base all'analisi dinamica e alle esperienze personali verranno dati dei voti e compilate delle vere e proprie tabelle andiamo a sentire qual è il commento finale siamo dunque alla resa dei conti dato che di comparativa stiamo parlando è altrettanto importante stilare una classifica finale consci del fatto che andremo incontro alle ire di chi non ha visto la sua prescelta appoggiare i tasselli sui gradini del podio facciamo dunque una serie di considerazioni per avvalorare la nostra posizione finale la prima premessa è che per fare un lavoro davvero esente da ogni critica avremmo dovuto portare le moto su diversi tracciati e affidarci anche al cronometro e non ultimo effettuare il banco prova definendo così una cascata di parametri in più ma il tempo a nostra disposizione anche dal punto di vista logistico ve lo diciamo sinceramente è stato pochissimo ecco perché abbiamo preferito selezionare tanti piloti di diversa estrazione con esperienza racing e non perché è quello che ogni domenica di tempo libero ritroviamo poi nei crossodromi di tutta Italia ma bando alle chiacchiere prima del risultato finale abbiamo deciso di dare un premio ad ogni concorrente e leggendo così varie miss perché ogni protagonista si è distinta per una caratteristica che la resa comunque unica nonostante in certi casi le evidenti somiglianze in ordine alfabetico ancora una volta Honda CRF Miss Ergonomia posizione in sella semplicemente perfetta adatta ad ogni pilota e taglia ancora una volta a cavallo delle moto di questo marchio viene spontanea questa considerazione ci si sente a caso Husqvarna TC Miss Style perché è fatto con una cura e un'attenzione tipicamente italiana una ricerca evidente di qualità che vuole mantenere però il valore aggiunto di un artigianale convincono le scelte di stile moderno KTM SXF Miss Performance il suo motore mette tutti sull'attenti ha una potenza superiore alla concorrenza la risposta al gas è balistica rapida a salire di giri e da metà regime allunga in modo esagerato Kawasaki KXF Miss Bellezza il colpo d'occhio non ha rivali verde ramarro, brillante ma non troppo cerchi neri e forcella nodizzata mola del mono e tabelle portanumeri nere ti fa sentire Bubba Pink Panther Steward Suzuki RMZ Miss miglior acquisto costa meno molto meno delle concorrenti e in questo periodo di ristrettezze economiche non è cosa da poco considerato che a livello di componentistica non invidia nulla alle altre già Yamaha YZF Miss facilità con lei anche il neofita si trova su agio intuitiva con una ciclistica rigorosa ed efficace telaio rigido ma non troppo nervoso così il neofita quanto il pro ha un'ottima compagna di gioco ognuna quindi si è ritagliato uno spazio particolare ottenendo consensi pressoché unanimi da tutti i nove tester che alla fine sommando i punti delle schede compilate hanno decretato questa classifica finale prima però i prezzi che variano sensibilmente tra la più economica Suzuki e la più cara Honda promozioni escluse naturalmente ci sono quindi 1350 euro si parte dai 6960 euro per la gialla passando a 7800 euro circa per Usquarna e Kawasaki al tetto degli 8100 euro circa di KTM e Yamaha fino al tetto massimo della rossa a 8300 euro medaglia di bronzo Yamaha YZF 250 con 576 punti medaglia d'argento KTM 250 SXF con 600 punti e al primo posto e quindi trionfatrice della prima grande comparativa del 2008 con 682 punti Honda CRF 250R Usquarna, Kawasaki e Suzuki per pochi punti sono giù dal podio ugualmente al quarto posto